Conoscete Yugi Gallaker, il piccolo ragazzo scozzese? Il miglior centravanti che il Newcastle abbia mai avuto? Se non segna un gol, lo metteremo in cassa integrazione e lo rispediremo in Scozia da dove è arrivato. Era questo il canto che i tifosi del Newcastle all'inizio degli anni 20 del XX secolo intonavano durante ogni partita in un San James Park strarivante. Bersaglio dei cori, Yug Kilpatrick Gallaker, detto Yugi, sgusciante attaccante e tascabile che in campo trascinava la squadra nel momento migliore della sua storia. Un coro ironico perché, anche se non avesse segnato alcun gol nell'arco di quei 90 minuti, a nessuno sano di mente sarebbe venuta l'idea di privarsi davvero di quello che veniva chiamato ormai il re del Tyneside. Yugi Gallaker era nato il 2 febbraio del 1903 a Bellseal, piccolo villaggio di minatori nell'Enerchire settentrionale, distante una quindicina di media da Glasgow, e aveva iniziato un percorso che lo avrebbe consacrato come uno dei più grandi campioni di football della sua epoca, quasi per caso. Recattosi ad assistere a una partita giovanile tra la rappresentativa locale e il più rinomato Sam Mirren era sceso in campo per ovviare l'inattesa assenza di un compaesano e aveva sfruttato l'opportunità per lasciare il segno con un gol, il primo di una lunga serie. Nel Bellseal Athletic, così si chiamava la squadra del suo villaggio, sarebbe rimasto poche settimane. Il tempo di guadagnarsi una chiamata nella nazionale giovanile scozzese, segnare ancora e quindi trasferirsi al più rinomato Queen of the South. Anche qui si presentò a modo suo. 4 gol all'esodio con la squadra riserve, ben 5 al debutto tra i titolari, con i giocatori del Dunbarton rimasti a bocca aperta, impotenti, davanti alle sue serpentine. Il gol sarebbe stato per sempre una costante nella carriera di Yugi Gallaker, attaccante di taglia ridotta, alto poco più di 160 cm, ovviava alle lacune fisiche con il carisma di un veterano, la classe di un campione e la feroce determinazione nel portare a termine il suo compito, spedire il pallone in fondo alla rete. Non c'è da stupirsi dunque della disperazione dei tifosi del Queen of the South quando, dopo solo 9 gare e la bellezza dei 19 reti messe a referto, Yugi salutò per trasferirsi all'Airdrie Onions, ricco club professionistico. Né di quella dei supporter successivi quando, dopo 5 anni e 90 gol in 113 partite che erano valsi la vittoria di una Scottish Cup, il campione salutò ancora per raggiungere stavolta l'Inghilterra, come tanti avevano fatto prima di lui. In Inghilterra, del resto, all'epoca si giocava il calcio migliore al mondo e Yugi Gallaker, a 23 anni, si sentiva pronto per misurarsi con i migliori. Acquistato da Newcastle per 6.500 sterline, la stessa cifra con cui l'anno precedente il Sunderland aveva prelevato Bob Kelly dal Barley, stabilendo un nuovo record mondiale nel campo del calciomercato, il giovane attaccante scozzese arrivava circondato da enormi aspettative, che sarebbero state ampiamente ripagate. Trasferitosi a metà della stagione 1925-1926, si presentò mettendo a segno la bellezza di 23 reti in 19 partite, risollevando la squadra, che fino a quel momento aveva deluso, e che invece è chiusa a metà classifica. Nel torneo successivo, incredibilmente, arrivò la vittoria della First Division, la quarta e ultima nella storia del club, capace di sovrastare tutti gli avversari, soprattutto grazie ai 36 gol in 38 gare, di quello che ovviamente fu eletto subito come nuovo re del St. James Park, di Newcastle e di tutto il Tyneside. Quelli che seguirono furono gli anni migliori della carriera di Yugi Gallacher. Per vederlo giocare, migliaia di persone si accalcavano ai cancelli dello stadio, senza avere la benché minima certezza di poter trovare posto. Già sposato e padre di famiglia, il campione avrebbe lasciato la moglie, conosciuta da giovane ai tempi della miniera, per inseguire l'amore di Hannah, giovane figlia di un locandiere di Newcastle che definì l'unico vero amore della sua vita e da cui avrebbe avuto tre figli. Tra i protagonisti della vittoria scozzese a Wembley sull'Inghilterra per 5 a 1, uno degli 11 uomini che sarebbero passati alla storia come i Wembley Wizards, Gallacher continua a segnare con regolarità impressionante. Alla fine, tra campionate e coppe, il suo tabellino con il Newcastle avrebbe segnato 143 gol in 174 partite. Numeri impressionanti, oggi come allora. Mano a mano che gli anni passavano e la carriera si avvicinava alla sua inevitabile conclusione, tuttavia, il campione si rese conto che non aveva mai pensato a cosa avrebbe fatto dopo, quando il calcio sarebbe stato soltanto un ricordo. Per questo rimandò a lungo il ritiro, lasciando il segno a son di reti anche con le maglie di Chelsea, Derby County e Noss County, prima di un malinconico tramonto tra Greensby Town e Gateshead. Quindi arrivò il momento di doversi reinventare, un momento che molti calciatori dell'epoca temevano perché significava anche un drastico cambiamento nello stile e nel tenore di vita, dato che i guadagni dell'epoca, seppur ingenti, certo non bastavano come oggi a sistemarsi per generazioni. I buoni propositi di Gallacher si scontrarono subito con la dura realtà quando l'amata Anna morì, improvvisamente ancora giovanissima, gettandolo nello sconforto. Solo e con tre figli da accudire, Yugi fu vittima prima della depressione e poi dell'alcolismo, motivo per cui una sera litigò violentemente con il figlio Metti, che poco dopo fuggì di casa dopo essere stato colpito da un posacenere scagliato dal padre in un momento di rabbia. Il processo per violenza domestica fu fissato il 12 giugno del 1957. Il giorno prima, all'alba di un martedì come tanti, qualcuno vide un individuo di bassa statura a girarsi nei pressi dei binari della stazione di Gateshead, come disorientato. Era Yugi Gallacher, ormai astento riconosciuto dal popolo che esattamente 30 anni prima aveva portato sul tetto d'Inghilterra. Farfugliava frasi sconnesse, piangeva, chiedeva perdono. Quindi, improvvisamente, sfuggito a chi tentava di fermarlo, quello che un tempo era stato il re del Tynesad si gettò sotto un treno, concludendo così, tragicamente, la sua vita. Se ne andava così, vinto dai rimorsi e dalla vergogna e a soli 52 anni, uno dei più grandi campioni della sua epoca, il mago di Wembley, il re di St. James Park e di tutto il Tynesad. Il club avrebbe dovuto aspettare la fine del secolo per trovare un suo degno sostituto, Alan Shearer, uno dei più forti attaccanti inglesi nella storia moderna. A cui il padre, dopo centinaia di gol, si sarebbe comunque rivolto così. Non importa quante reti riuscirei a mettere a segno, ragazzo, non sarai mai grande come Yugi Gallaker. Il più grande centroavanti, come cantavano i tifosi, che il Newcastle abbia mai avuto.